Bella soddisfazione, vincere la Supercoppa che mancava nella bacheca dell'Atalanta. È stata una partita sofferta come è stata quella di Manchester, però da questo punto di vista siamo maturati in questi anni qua perché abbiamo capito che non si può sempre difendere attaccando, quindi cercando di fare un gol in più, ma si può anche difendere un po' più bassi e lavorando di squadra. Oggi qualcosina abbiamo concesso e su quello la Fiorentina ha sbagliato, però è anche vero che abbiamo avuto la palla per chiudere la partita che ci avrebbe evitato la sofferenza finale. È stato un primo tempo senza emozioni gol, poi i gol sono arrivati tutti nella ripresa. C'è stato quello dell'Atalanta che è andato in vantaggio, due minuti e la Fiorentina va sull'1-1. Poi sono stati bravi i ragazzi, è stato bravo il mister a dirigerli poi anche dalla panchina. Allora, al primo tempo abbiamo sofferto un po' il contesto in cui abbiamo giocato perché non eravamo noi, eravamo un po' troppo tesi, un po' troppo giocate fatte con troppa frenesia, tanti errori tecnici che in genere non facciamo. Ce la concedegli a questi ragazzi perché oggi l'atmosfera era veramente bella. Nel secondo avevo chiesto a loro di giocare un po' più liberi di testa, nel senso che dovevano divertirsi, pensare a fare la loro partita come hanno sempre fatto e penso che l'abbiano fatto. Prendere gol subito dopo averlo fatto poteva essere una cosa pesante, però non ci abbiamo pensato, siamo andati in vantaggio e poi come ho detto prima non siamo riusciti a chiuderla, che ci ha portato un po' in sofferenza verso la fine. Dal Manchester City alla Fiorentina, ma non dimentichiamo che la primavera gioisce anche perché un suo 2002, ha fatto l'esordio in Serie A e ha anche segnato. Ma sì, quella è la soddisfazione più bella per chi fa settore giovanile, per chi allena questi ragazzi qua, cercare di prepararli per quello che sarà il loro futuro con i grandi. Sicuramente quando un ragazzo fa l'esordio e fa gol è ancora più bello, quindi soddisfazione doppia. E voi a Zingonia stavate finendo l'allenamento e poi avete visto il gol di Traorea, abbiamo visto i ragazzi che riprendevano sui telefonini il gol e esultavano negli spogliatoi a Zingonia. Sì, noi avevamo finito l'allenamento, appena rientrati ci siamo collegati al computer per vedere la partita e all'entrata di Ahmad per il suo esordio si è sentito un boato nello spogliatoio dei ragazzi. Ha il gol ancora peggio, quindi meglio di così non si può. Questo è il gruppo, è importante? Sì, il nostro gruppo è buono, noi con il nostro staff siamo riusciti a creare l'atmosfera giusta da trasferire a loro. Poi tanti di questi ragazzi giocano assieme da quando hanno 9, 10, 11 anni. Gli altri che si sono inseriti nei vari anni sono ragazzi seri, con la testa giusta, che si sono inseriti bene. Penso che questa sia la vera forza di questa squadra, sia di quest'anno ma anche dell'anno scorso. Gli altri che si sono inseriti a creare l'atmosfera giusta da trasferire a loro.